eccoci qua fan della ruggine guardate un po' questo camion che già avevo filmato in settimana meglio due video che uno quindi non vi ho inquadrato alcuni particolari dai questo è il momento migliore per farlo questo è un 643 fregio se n'è andato fiat sembrerebbe anche in buone condizioni insomma lo spucchietto è scappato ormai mangiato dalla ruggine lo vediamo qua qua c'è un rullo compressore per manutenzione strade vecchissimo tenuto qua il proprietario non vende ricordiamolo questo è già a parte di uno dei video dello scempio all'italiano questo qua il proprietario ha questo camion qua neanche molti altri e non li vende sceglie di tenerseli qua in casa non li vende intanto marciscono c'è gente che magari dei collezionisti li comprerebbero per averne uno nella collezione niente non li vende preferisce che stiano qua a marcire e vabbè che peccato non ci sono parole per descrivere questo è abbandonato da anni i fanalini saluto come sempre anche a te alessio che sei già venuto a filmare questo eccolo qua con questo si conclude il video sempre meglio due video che uno eccolo qua saluto tutti quelli che mi seguono a cala renti che commenta sempre i miei video ciao grazie per esserti iscritto e anche tutti gli altri matteo roberti e tutti gli altri iscrivetevi al canale tra poco nuovi camion in arrivo e nuovi scoop ciao a tutti